L'interesse dell'intelligenza artificiale per la logica modale non sarebbe giustificato completamente se Saul Kripke, all'epoca studente di logica, attualmente professore merito, credo all'Università di Princeton, non le avesse fornito una semantica computazionalmente accettabile. L'idea base nasce proprio dal concetto di multiverso, cioè di un universo con più mondi possibili. Mentre tutta la semantica tarschiana faceva riferimento ad una possibile interpretazione, ad un mondo in cui erano effettivamente possibili più interpretazioni che davano significati, valori di verità vero o falso alle formule, in quel mondo qui abbiamo un aumento del grado di libertà perché di mondi possibili ne abbiamo più di uno. E questi mondi sono come degli universi paralleli, ma non sono del tutto paralleli perché è possibile passare da un mondo all'altro mediante delle relazioni di connessione, delle relazioni cosiddette di accessibilità. Quindi abbiamo più mondi possibili. All'interno di ciascun mondo ciò che è vero e ciò che è falso è completamente determinato da una semantica ala tarschi, per capirci. Semplicemente che poi è possibile accedere da un mondo a un altro mediante le relazioni di accessibilità. Queste relazioni di accessibilità ce ne saranno una per ogni operatore modale di cui avremo bisogno. E il concetto fondamentale è già rappresentato in questo slide, che dà un po' il senso di tutta la semantica. E cioè il senso della semantica dell'operatore modale è questo qui. Una certa formula alfa sarà necessariamente vera, cioè box alfa sarà vero in un certo mondo, se alfa sarà vera in tutti i mondi accessibili da quel mondo, in base alla relazione di accessibilità associata come parte della semantica all'operatore modale box. Diceversa, diamond alfa sarà vera in quel mondo, se e solo se alfa sarà vera in almeno un mondo accessibile da quel mondo, sempre alla luce delle relazioni di accessibilità associata all'operatore modale che stiamo modellando, di cui stiamo dando un significato. Quindi in qualche maniera tornano in campo i significati che originalmente erano stati connessi più di cento anni fa al quantificatore universale e al quantificatore esistenziale. Semplicemente che questi concetti di tutta, almeno uno, vengono riferiti ai mondi accessibili. Adesso cerchiamo di andare leggermente più in profondità nella decisione di fare un'operatore modale, a annoiare con i dettagli, però cerco di focalizzare sulle cose essenziali da capire, poi dopo faremo degli esempi che credo chiariranno bene il tutto. La struttura di clip, che formalmente quindi è definita in questa maniera, abbiamo un insieme S di mondi possibili, non uno solo. Una relazione seriale di accessibilità, una relazione binaria, che ci lega un mondo ad un altro, e seriale nel senso che è direzionale, questa non è necessariamente simmetrica. Potrebbe essere simmetrica, non vedremo, ma non è in generale simmetrica. Quindi è una relazione che, data una qualunque coppia di mondi possibili, stabilisce se dal primo è possibile passare al secondo. Un mondo S0 di riferimento, dove andremo a valutare su quel mondo lì il valore di verità delle formule modali, e ovviamente un dominio del discorso. Dopodiché, nel seguito, qui vedete, in questi tre punti, sostanzialmente, in sintesi, è definita una semantica taschiana su ciascuno di questi mondi. Cioè, ciascuno dei mondi ha associato un certo valore, una certa interpretazione ai simboli delle costanti, delle funzioni, dei predicati, così come abbiamo visto all'inizio di questo corso, essere definita la semantica di una qualunque logica dei predicati. Dopodiché, I sarebbe l'interpretazione data a ciascuna formula non modale, non modale, all'interno di questi mondi. I, quindi, è la nostra interpretazione, e i concetti importanti da capire sono questi qui, per la semantica della logica modale. Dunque, dato un certo mondo SI, la semantica in questione associa ad una formula gamma atomica, con un certo numero di argomenti, questo è un simbolo di predicato, gamma, che ha un certo numero di argomenti, gli associa al valore di verità vero all'interno di un mondo SI, se e solo se l'interpretazione stessa su quel mondo ha valore vero per l'interprezione in questione dà valore vero alla relazione associata al predicato gamma sugli oggetti che la stessa interpretazione associa in quel mondo agli argomenti del predicato stesso. Cioè, in pratica, abbiamo preso la definizione del significato della semantica di una formula atomica, semplicemente che l'abbiamo però esplicitamente riferita al mondo SI, cioè al mondo in cui stiamo andando a valutare il valore di verità di quella formula atomica. Dopodiché, il valore dei connettivi NOT, AND E DOR vengono assegnati sempre in relazione al mondo in questione, SI come consueto e invece gli ultimi due punti è bene fare attenzione perché costituiscono l'elemento appunto di novità che ho anticipato poco fa e cioè dato un mondo SI un mondo possibile SI la semantica dei mondi possibili fornisce valore di verità vero alla formula box gamma se e solo se la stessa semantica fornisce un valore vero per la stessa formula in qualunque mondo SJ che sia accessibile a partire da SI quindi la semantica dell'operatore modale è espressamente riferita alla relazione di accessibilità una formula box gamma è vera in un mondo I se e solo se essa è vera in ogni mondo SJ accessibile a partire dal mondo SI e invece il valore di verità di una formula modale diamond gamma sempre in un mondo SI è vera se e solo se la stessa formula gamma è vera in almeno un mondo SJ accessibile a partire da SI cerchiamo di dare il senso di quello che abbiamo appena partendo da un caso molto semplice e cioè il caso in cui gli operatori modali si appoggiano sulla logica proposizionale se abbiamo una logica proposizionale un linguaggio proposizionale fatto di due sole formule alfa e beta come sappiamo abbiamo quattro possibili interpretazioni ebbene la semantica dei monti possibili considera ciascuna di queste quattro possibili interpretazioni S0, S1 S2, S3 come lo chiamate qui in questa slide un mondo possibile quindi in pratica due formule due lettere proposizionali quattro mondi possibili e la differenza fra i quattro mondi sono nei valori di verità associati alle lettere proposizionali ovviamente ne potremmo considerare anche un sottinsieme di questi però sono quattro li consideriamo tutti e andiamo a fare delle considerazioni adesso vorremmo sapere per esempio se box alfa è vero ma non dove in uno di questi mondi prendiamo S0 come mondo di riferimento così come la semantica ci aveva richiesto di fare andiamo lì a vedere se vale box alfa bene allo stato delle cose rappresentato in questa figura qui non possiamo dire niente circa box alfa in S0 perché perché non è rappresentata la relazione di accessibilità non c'è non l'abbiamo definita supponiamo adesso di definirla una relazione di accessibilità molto semplice così da una solo arco e cioè una relazione che dice che da S0 è possibile accedere ad S0 e quindi la relazione è tutta qui supponiamo se la relazione di accessibilità è tutta qui allora possiamo dire in S0 che in tutti i mondi accessibili da S0 alfa è vero beta è vero e alfa implica beta è vera e quindi possiamo dire box alfa box beta e box alfa implica beta sono veri in S0 perché rispettivamente alfa beta e alfa implica beta sono veri in tutti i mondi accessibili da S0 perché quali sono questi mondi accessibili da S0 solo S0 siccome in S0 queste formule sono vere allora box alfa box beta e box alfa implica beta sono veri se poi invece andiamo a richiedere le relazioni di accessibilità e diciamo che da S0 si può accedere anche a S2 poiché in S2 not alfa è vero e viceversa alfa non è vero allora non possiamo più dire che in S0 è vero box alfa e quindi box alfa scompare in S0 se poi andiamo ad arricchire ancora la relazione di accessibilità dicendo che da S0 si può accedere anche a S1 beh abbiamo siccome in S1 non è vero beta e non è vero neanche che alfa implica beta allora decadono in S0 anche box alfa implica beta e anche box beta potremmo mettere in S0 diamond beta perché beta è accessibile in S0 almeno da uno dei mondi per esempio S0 stesso o anche S2 potremmo mettere diamond anche alfa e non l'ho fatto però ecco facciamolo pensiamo che l'abbiamo fatto se poi adesso io vado ad aggiungere un'altra relazione di accessibilità fra S2 e S3 posso mentalmente pensare di collocarmi in S2 e siccome in S2 in tutti i mondi è accessibile S2 che è uno solo S3 in S3 alfa implica beta è vero io posso scrivere in S2 che box alfa implica beta è vero perché alfa implica beta è vero in tutti i mondi è accessibile S2 cioè è solo S3 e quindi in S2 ci andrò a scrivere box alfa implica beta ma in questo stato di cose se adesso suppongo che non sia più vero l'arco che la relazione di accessibilità non mi faccia più passare da S0 a S1 e quindi posso recuperare in S0 la formula box alfa implica beta e a questo punto gioco sia in S0 che in S2 che box alfa implica beta e siccome tornando in S0 i mondi accessibili S0 sono proprio S0 ed S2 e non ce ne sono altri e siccome in entrambi questi mondi è vera la formula box alfa implica beta allora io posso scrivere in S0 che è vera anche la formula box box alfa implica beta perché in tutti i mondi accessibili S0 è vera la formula box alfa implica beta e così via spero che questo abbia dato un po' il senso profondo insomma il senso di base essenziale della semantica dei mondi possibili ora ricordiamoci che avevamo definito nella unità didattica precedente i 12 assiomi più importanti caratteristici di tutta la logica modale la semantica dei mondi possibili in pratica fornisce supporto per la verità per la giustificazione di tutti quei 12 assiomi meno 3 cioè se noi prendiamo e meno 3 sono meno l'assioma numero 7 meno l'assioma numero 9 e meno l'assioma numero 10 tutti gli altri assiomi più il modus ponendo ponens più la regola di inferenza di necessitazione sono soddisfatti dalla semantica che abbiamo appena definita cioè la semantica dei mondi possibili è una semantica completa per un sistema formale costituito da quei 9 assiomi e cioè i 12 meno il 7 il 9 e il 10 e quelle due regole di inferenza questo ovviamente si dimostra nei testi di logica modale e ovviamente è stato il lavoro fondamentale di Solcrip che è dimostrare questo che abbiamo appena detto dopodiché però abbiamo detto che non sono soddisfatti dalla semantica dei mondi possibili assiomi 7 9 e 10 a meno che non facciamo alcune ipotesi sulla natura della relazione di accessibilità in particolare se noi supponiamo che la relazione di accessibilità sia riflessiva e cioè che dato un qualunque mondo nella semantica dei mondi possibili la relazione di accessibilità prevede che il mondo stesso sia sia accessibile dal mondo stesso allora abbiamo che questa ipotesi sulla natura della relazione di accessibilità fornisce supporto la giustificazione per la validazione della sioma numero 7 la sioma noto come la sioma t e in pratica questa ipotesi fa sì che sia giustificato tutto il sistema formale cosiddetto t come mai? beh è ovvio perché se io ciò che in s0 è vero box p e se ho dato per ipotesi che la relazione di accessibilità sia riflessiva e quindi box p deve essere vero in tutti i mondi accessibili da s0 questo implica che p sia vero anche in s0 da cui ne segue la sioma 7 box p implica box alfa implica alfa se poi oltre a questa ipotesi di riflessività andiamo anche a fare l'ipotesi di transitività sulla relazione di accessibilità e cioè diciamo che se da un certo mondo s0 si può accedere a un mondo s1 e da s1 si può accedere a un mondo s2 allora necessariamente da s0 si accede al mondo s2 quindi ipotesi di transitività sulla relazione di accessibilità binaria allora abbiamo che questa ulteriore ipotesi fornisce supporto per la validità della somma che abbiamo chiamato somma di introspezione positiva box alfa implica box box alfa come mai? perché se abbiamo che in s0 vale box p e abbiamo che da s0 si può accedere a s1 allora vuol dire che in s1 sarà vero ovviamente p e poi abbiamo dato per presupposto questa ipotesi che se da s1 si può accedere a s2 questa è sempre ipotesi e se abbiamo che in s1 è vero box p questo vuol dire che che p è vero anche in s2 ora se in s2 abbiamo la relazione che abbiamo supposto essere transitiva se è vero p in s2 in s2 sarà vero anche box p dunque che cosa abbiamo alla fine alla fine che abbiamo che se c'è box p in s0 ci deve essere box p nell'ipotesi che la relazione sia riflessiva e transitiva anche in s2 questo ovviamente per una qualunque tripla di mondi possibile che sia legato da una relazione di accessibilità nell'ipotesi che la relazione sia riflessiva e transitiva se abbiamo box p in s0 dobbiamo avere per forza box p anche in s2 questo vuol dire che in pratica in tutti i mondi accessibili s0 se è vero in s0 box p sarà vero anche negli altri mondi box p e quindi in s0 sarà a maggior ragione sarà sicuramente vero box box p perché box p sarà vero in tutti i mondi accessibili a partire s0 questo è stato un altro contributo dato da Solcripke in pratica se la relazione di accessibilità ha dimostrato lui è riflessiva è transitiva diamo la semantica di monte possibile da supporto al sistema formale ideologico modale s4 se poi da ultimo supponiamo che oltre a essere riflessiva e transitiva la relazione di accessibilità è anche simmetrica avevamo detto all'inizio che la relazione di accessibilità è seriale adesso se facciamo l'ipotesi che sia anche simmetrica a questo punto si dimostra che diamo supporto anche per la sioma S5 quello che abbiamo chiamato sioma di introspezione negativa se gli dessimo una interpretazione un'accezione cognitiva e cioè se non so una cosa so di non saperla che ovviamente dal punto di vista dell'intelligenza artificiale non è gradevole non è un un sistema formale è comodo perché è facile fare inferenze in S5 però insomma andremo a modellare un agente che se non sa una cosa qualunque cosa non sappia sa di non saperla comunque sia la cosa ecco insomma molto bella dal punto di vista se volete estetico e che concludendo con questa facendo l'ipotesi che la relazione di accessibilità sia una relazione di equivalenza abbiamo che in pratica diamo supporto per tutti i 12 gli assiomi che abbiamo visto nell'unità didattica precedente gli ultimi due la forma di Barker non la prendiamo in considerazione perché non abbiamo tempo e non ci possiamo entrare nel dettaglio perché adesso abbiamo altre cose da dire che dal punto di vista dell'intelligenza artificiale sono molto interessanti la prima è che la logica per fare dei ragionamenti in un contesto multiagente e cioè ci consente anche di poter rappresentare gli stati mentali non solo dell'agente che stiamo modellando ma anche gli stati mentali di altri agenti rappresentati dalla gente che stiamo modellando cioè la logica ci dà supporto per poter rappresentare stati mentali in pratica noi possiamo dare non solo più interpretazioni agli operatori modali quindi andiamo per ordine dato un operatore modale a quell'operatore modale è completamente definito ostante un insieme di mondi possibile dalla relazione di accessibilità associata a questi mondi un operatore modale una relazione di accessibilità questo operatore modale può essere un operatore che rappresenta per esempio la conoscenza quindi l'operatore la relazione di accessibilità andrebbe modellata come dato un certo mondo io considero credibile anche quell'altro mondo cioè nell'ipotesi che io mi trovo in un mondo riterrei un mondo possibile anche quest'altro 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 oppure potrebbe anche essere interpretato come stiamo per vedere in senso volitivo cioè dato un certo mondo io considero un altro mondo piuttosto che un altro piuttosto che un altro desiderabili a partire da quel mondo questo è un po' intuitivamente l'idea di come interpretare la relazione di accessibilità fra questi mondi possibili ma oltre a questa a questo grado di libertà cioè di poter associare più operatori modali a più operatori modali differenti significati interpretazioni modali noi abbiamo anche un'altra possibilità e cioè quella di poter rappresentare differenti attitudini mentali di diversi agenti sugli stessi mondi possibili utilizzando differenti relazioni di accessibilità per esempio supponiamo di stare in un contesto puramente cognitivo in cui abbiamo solamente degli operatori di credere e di sapere beliefs e quindi sostanzialmente che abbiamo due agenti Clark Kent è la sua fidanzata Lois Clark è il blu Lois è il rosso abbiamo un mondo definito da due sole formule proposizionali R ed I dove R sta per pioverà e I sta per Clark Kent è Superman e abbiamo su questi mondi definite due relazioni di accessibilità diverse una in ble che è la relazione di accessibilità cognitiva associata a Clark Kent e un'altra in rosso che è la relazione di accessibilità cognitiva assegnata alla sua fidanzata Lois dunque è solo un esempio quello che stiamo facendo però cerchiamo di seguire l'esempio supponiamo andiamo in S0 vediamo che in S0 qui non abbiamo fatto nessuna ipotesi sulla natura della della relazione di accessibilità però in realtà a guardarla bene la blu è una relazione che è riflessiva lo sto guardando per tutti e quattro i mondi ed è anche è una relazione di equivalenza a tutti gli effetti ma adesso questo non non rientra nell'importanza nello scopo dell'esempio perché l'esempio sostanzialmente è quello che ci vuole dire ci vuole dire che in S0 stiamo a Clark Kent Clark Kent in S0 è vero I e anche I è vero in S3 per cui in tutti i mondi accessibili a S0 I è vera per cui possiamo dire box C se il box in questione è interpretato in senso cognitivo possiamo dire che Clark Kent sa se lui è sa che lui è Superman ok se andiamo negli altri due mondi in S1 e in S2 in questi due mondi lui non è Superman non sarebbe Superman alla luce della storia che conosciamo ci sono due mondi in cui lui non è Superman in questi due mondi però in ciascuno di questi due mondi però lui sa di non essere Superman alla luce della natura della relazione di accessibilità di Clark Kent su questi quattro mondi torniamo a S0 riguardo alle previsioni della pioggia siccome in S0 R è vero che pioverà e in S3 R non è vero possiamo dire che Clark Kent sa che pioverà no perché in S0 è accessibile il mondo in cui invece è previsto che non pioverà però siccome è accessibile anche un mondo in cui è previsto che pioverà possiamo dire che Clark Kent crede ritiene possibile che pioverà non che sa che pioverà BR per quanto riguarda Lois alla luce della relazione di accessibilità mostrata qui in rosso lei in S0 non può dire di sapere che Clark Kent è Superman perché da S0 è accessibile anche un mondo che è il mondo S2 e anche un altro ancora che è il mondo S1 in cui Clark Kent non è Superman per cui non possiamo scrivere qui K-Rosso-I ma possiamo scrivere B-I e quindi potremmo dire che Lois sospetta ritiene possibile che il suo fidanzato sia Superman ma non lo sa con certezza così come ritiene possibile che pioverà ma non lo sa con esattezza e questo in realtà sarà vero anche negli altri due mondi negli altri tre mondi sono andato l'affare voi per conto vostro e quindi possiamo dire in pratica in S0 che sicuramente non solo in S0 in realtà ma anche negli altri che che nessuno dei due sa se pioverà o no perché non hanno visto in pratica le previsioni del tempo alla luce di queste relazioni semplicità possiamo dire che questi agenti non sanno se pioverà o meno ma una cosa possiamo dirla addirittura la possiamo dire in tutti e quattro i mondi siccome nel mondo S0 è vero K-Blue Nel mondo S1 è vero K-Blue Not-I nel mondo S2 è vero K-Blue Not-I e nel mondo S3 è vero K-Blue La formula K-Blue or K-Blue Not-I che non è una tautologia attenzione I or Not-I Not-K-I or K-I sarebbe una tautologia ma K-I or K-Not-I non è una tautologia è una formula è una formula modale ma alla luce di questa semantica dei mondi possibili e questa relazione di accessibilità questa formula è vera in tutti e quattro i mondi quindi qualunque sia la relazione di accessibilità posto che ce ne sia una ovviamente associata a Lois possiamo dire che in tutti e quattro i mondi in particolare nel mondo S0 Lois non sa se il suo fidanzato è Clark Kent è Superman ma sa che il suo fidanzato lo sa questo è molto importante per far capire le potenzialità della logica modale per rappresentare stati mentali in un'ottica multiagente facciamo un altro esempio qui abbiamo una struttura per la relazione di accessibilità di Lois più semplice e e qui è Superman che nel nel possiamo dire in questa relazione di accessibilità semplificata anche in questa relazione di accessibilità semplificata anzi no solo in questa relazione di accessibilità semplificata per quanto riguarda Lois e Superman può sapere dunque cosa succede succede che in S0 Lois questa volta sa se pioverà no ha visto le provisioni del tempo prima era BR adesso in rosso c'è KR perché da S0 è accessibile solo S0 stesso ed è accessibile solo S1 e in S1 R è vero quindi in tutti i mondi è accessibile S0 e R è vero per Lois e quindi K rosso R in questi altri due mondi esattamente il contrario K rosso not R quindi KR è vero in questi due mondi K not R è vero in questi altri due mondi e in tutti e quattro i mondi quindi è vero KR or K not K not R K not R scusate e quindi in pratica dal punto di vista di Clark Kent Superman Clark Kent sa lui non ha visto le previsioni ma sa che le ha viste Lois quindi abbiamo come stiamo per vedere fra un po' i presupposti per poter far partire un atto di comunicazione cioè lui in S0 Clark Kent non sa se pioverà o no ma sa che Lois lo sa e quindi sa a chi chiederlo prima di concludere su questo tema importante abbiamo altre tre perle che ci ha regalato la logica modale questo sono i lavori di alcuni autori a partire da Inticca si è interpretata come logica epistemica e le perle sono queste qui innanzitutto ci hanno fatto capire che differenza c'è fra concetti come conoscenza diffusa shared knowledge common knowledge conoscenza comune e implicit knowledge conoscenza implicita in particolare i primi due tendono a essere concetti a cui si attribuisce lo stesso significato lo stesso significato conoscenza condivisa o conoscenza comune e in realtà la conoscenza condivisa lo tradotto in italiano come conoscenza diffusa il concetto è tutti sanno una certa cosa noi lo possiamo implementare lo possiamo rappresentare in logica modale con un nuovo operatore modale quello rosso lì è rosso è un nuovo operatore modale che può essere definito a partire dal box e cioè se abbiamo n agenti quindi siamo in ottica multiagente e ciascuno dei quali ha delle proprietà cognitive catturate come abbiamo visto negli esempi precedenti da una particolare relazione di accessibilità ed espresse da un particolare operatore modale quindi K1 per l'agente 1 K2 per l'agente 2 che sono associati a una relazione di accessibilità R1 eccetera allora noi possiamo dire che una certa formula P è conoscenza diffusa se la formula è vera in un mondo nel mondo S0 per per tutti gli agenti quindi K1P AND K2P AND eccetera questo sarebbe conoscenza diffusa altro concetto è la conoscenza comune la quale si basa su questo concetto ma attiva un meccanismo di di innestamento di modalità la conoscenza comune sarebbe la conoscenza diffusa innestata a a a livello infinito e cioè il concetto è questo qui tutti sanno P che sarebbe conoscenza diffusa e tutti sanno che tutti lo sanno e tutti sanno che tutti sanno che tutti lo sanno e tutti sanno che tutti sanno che tutti sanno che tutti lo sanno questo ricorda un po' il giochino di Celentano di tanti anni fa quando faceva quello scherzetto che diceva che io credo che chi non crede crede di non credere ma crede più di chi crede di credere e non crede di non credere e non credi c'era quel giochino che se uno poi lo va a seguire questo piccolo puzzle mentale in realtà c'ha un significato però fa riferimento a un uso molto intenso e molto molto spinto della modalità cognitiva innestata qui questo concetto della modalità cognitiva innestata viene applicato alla conoscenza diffusa la conoscenza diffusa di una cosa nonché la conoscenza diffusa della conoscenza diffusa di una cosa nonché la conoscenza diffusa della conoscenza e così via viene definita essere conoscenza comune e la cosa bella è che questi concetti a cui corrispondono due operatori modali hanno proprio una controparte computazionale molto ben definita perché la conoscenza diffusa e quindi è P possiamo dire che è vera in un certo mondo S sarà vera se e solo se prendendo un arco un arco di accessibilità che qualunque sia un arco di accessibilità che appartiene all'unione delle relazioni di accessibilità di tutti gli agenti abbiamo che anche nel mondo di destinazione a partire dal mondo di partenza quella formula è vera cioè in pratica questa sarebbe proprio la definizione con la semantica dei mondi possibili del 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 fatto che una certa formula è conoscenza diffusa una certa una certa formula è conoscenza diffusa se in un certo mondo se prendendo qualunque arco che prendiamo che appartiene all'unione delle relazioni di accessibilità associate a tutti gli agenti abbiamo che nel mondo di destinazione quella formula è vera questo è il concetto di conoscenza diffusa dopodiché per dare un significato una semantica non ambigua al concetto di conoscenza comune introduciamo un concetto di raggiungibilità che in realtà anche dalla teoria dei sistemi dovrebbe agli studenti di ingegneria essere nota data una struttura una struttura di clip che è con più relazioni di accessibilità un mondo t si dice raggiungibile da un mondo s se c'è una sequenza di mondi che s0 sm con s0 il mondo da cui vogliamo partire e s il mondo che vogliamo raggiungere come ultimo tale per cui per ogni coppia di di mondi che appartengono a questa successione esiste una relazione di accessibilità associata a un agente piuttosto che a un altro che gli consente di poter fare il passaggio definita la relazione di raggiungibilità il concetto di raggiungibilità di un mondo a partire da un altro abbiamo il supporto per dare della semantica della conoscenza comune diciamo che una certa formula è conoscenza comune se e solo se quella formula è vera in qualunque mondo s.i. che sia raggiungibile a partire dal mondo s in questione e quindi la definizione della semantica di conoscenza comune nella semantica nella semantica di grippe che è associata al concetto di raggiungibilità di un mondo a partire da un altro però diciamo pure che il concetto di conoscenza comune è da punto di vista formale molto bello esteticamente ripeto davvero interessante non tanto quello che sta per venire ma molto interessante però rappresenta una specie di chimera perché nel mondo reale a meno che non siamo in grado di garantire che la comunicazione venga effettuata e garantita in tempi finiti la comunicazione fra gli agenti adesso non abbiamo tempo di approfondire questi concetti però dovrei fare l'esempio dell'attacco congiunto dei due generali che stanno su due coline diverse insomma spiegare come di fatto se non abbiamo la certezza che non ci sia errore di comunicazione e che la comunicazione abbia un tempo finito fra due agenti di fatto la conoscenza comune non è non è raggiungibile nel mondo reale mentre invece è raggiungibile nel senso che c'è molto interessante quest'ultima perla che la logica modale ci ha dato interpretata nel senso cognitivo il concetto di conoscenza implicita supponiamo che supponiamo che abbiamo che un agente conosce sa alfa e un altro agente sa che alfa implica beta allora possiamo dire che beta è conoscenza implicita alla coppia di questi due agenti perché uno conosce la premessa dell'implicazione uno sa l'implicazione quindi se io so che so che l'acqua bolle a 100 gradi e non so che l'acqua sta a 100 gradi e un altro sa che l'acqua sta a 100 gradi ma non sa che a 100 gradi l'acqua bolle se noi mettessimo insieme le due conoscenze sapremmo che 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 l'acqua bolle nessuno di noi due lo sa lo sapremmo è conoscenza implicita nessuno di noi due sa che l'acqua bolle ma lo sapremmo se condividessimo la conoscenza questo è il concetto di conoscenza implicita a cui associamo un altro operatore modale i e anche qui la semantica dei mondi possibili meravigliosamente direi ci fornisce il supporto per dare un significato non ambiguo a questo concetto di conoscenza implicita dato un certo mondo s una certa formula è conoscenza implicita all'interno di questo mondo se solo se essa è vera per qualunque mondo SJ che appartiene alla intersezione delle relazioni di accessibilità associate agli agenti coinvolti che fanno parte del gruppo di cui stiamo valutando la conoscenza implicita se tutti mettessero assieme la loro conoscenza allora gli unici mondi possibili risulterebbero essere quelli nell'intersezione degli insiemi dei mondi che ciascuno considera possibili questo è concetto importante e cioè ognuno ha la sua relazione di accessibilità ma se tutti comunicassero tutti a tutti alla fine tutti avrebbero la stessa relazione di accessibilità e quindi questa sarebbe comune per tutti e a questo punto tutti avrebbero esattamente le stesse conoscenze e le stesse conoscenze sarebbero note a tutti quello che è conoscenza implicita diventerebbe conoscenza esplicita di tutti quanti a me mi pare una cosa molto bella andiamo verso la conclusione diciamo che ricordiamo che appunto possiamo dare alla relazione di accessibilità anche interpretazioni non cognitive per esempio proviamo un attimo a buttare la testa sull'interpretazione della relazione di accessibilità come relazione di desiderio e cioè se per esempio in un mondo S0 io ritengo accessibile questo mondo vuol dire che sono contento del mondo in cui vivo però per esempio mettiamoci sulla qui abbiamo con il rosso e l'OIS sempre con il blu è Clark Kent e l'OIS in S0 tutto sommato è soddisfatta del mondo in cui si trova mentre Clark Kent non è soddisfatto del mondo in cui si trova preferirebbe stare in S1 oppure preferirebbe stare in S3 per quanto riguarda l'OIS è soddisfatta del mondo in cui si trova però condivide l'opinione condivide il desiderio di Clark Kent che riterrebbe anche S1 un mondo desiderabile e viceversa l'OIS considera desiderabile S2 che non è desiderabile invece da Clark Kent Clark Kent invece desidera S3 che non è desiderabile da L'OIS L'OIS desiderare S0 che non è desiderato da Clark Kent allora in S0 abbiamo che in S0 è un mondo in cui piove diciamo piove piove è un mondo in cui si sta a casa qui potremmo metterci un avverbio spesso per dare meglio il senso di queste due proposizioni piove spesso e si sta spesso a casa questo S1 è un mondo in cui piove spesso ma non si sta spesso a casa questo è un mondo dove non piove spesso e non si sta spesso a casa questo è un mondo dove non piove spesso ma si sta spesso a casa dunque se le relazioni di desiderabilità di mondo sono quelle che abbiamo appena descritto in S0 possiamo dire che L'OIS tutto sommato desidera che non piova che desidera che non piova spesso verificate anche da voi questo e tutto sommato questo desiderio l'accumuna anche a a fidanzato a Clark Kent perché anche per Clark Kent in questo mondo il fatto che non piova è desiderabile li distingue alla luce della notizia delle sensibilità invece l'intenzione perché mentre L'OIS vuole stare spesso a casa invece Clark Kent a luce di questa relazione di sensibilità vuole stare spesso vuole non stare spesso a casa quindi probabilmente significherà stare spesso fuori questo per dare il senso dell'interpretazione volitiva della relazione di sensibilità e a questo punto concludiamo dicendo che queste le possiamo mettere assieme cioè sia l'interpretazione cognitiva della modalità che l'interpretazione volitiva le possiamo mettere assieme e a questo punto credo che si intuisca la potenza e il senso di quello che abbiamo fatto finora in tutta la sua potenza perché miscelando delle modalità diverse all'interno della stessa struttura di mondi possibili ecco per semplicità supponiamo che i mondi siano solo due S0 ed S1 e quindi alla luce abbiamo due relazioni di sensibilità una a tratto intero che si che è una relazione cognitiva e vediamo che se supponiamo che sia in S0 che in S1 è vera la formula NOT KR blu or WI questa significa che se Clark Kent sa che pioverà allora desidererà stare a casa e supponiamo che questa formula sia vera sia in S0 che in S1 questa è l'implicazione quindi questa sarebbe KR implica WI è relativa in blu quindi siamo a Clark Kent quindi Clark Kent pensa a questa regola nel suo stato mentale che dice che se sa che pioverà allora desidera stare a casa sempre in S0 Lois è consapevole di questo perché questa formula è vera in entrambi i mondi accessibili da da lei cognitivamente in S0 in più adesso non è specificato perché ma perché avremmo dovuto sporcare la grafica però supponiamo in questo mondo sempre Lois sappia che Clark Kent non sa che pioverà inoltre sempre nel mondo S0 sappiamo vediamo che Lois vuole che il fidanzato voglia stare a casa Lois rosso vuole che il fidanzato blu voglia stare a casa allora questo stato mentale qui S0 questo stato di cose qui rappresentato da tutta questa semantica è la premessa per giustificare è una premessa causale è uno stato di cose che fa sì che la gente razionale a questo punto faccia partire è un'azione sono le premesse in un senso della pianificazione in un senso del tipo strips questo stato di cose è la premessa perché venga compiuta un'azione particolare un'azione che si chiama speech act che è un'azione che è destinata a effettuare una comunicazione un trasferimento di informazione ma anche altro adesso non abbiamo tempo di parlare di speech act ovviamente in questo caso è un'azione informativa cioè siccome Lois vuole che il fidanzato voglia stare a casa sa che se il fidanzato sapesse che pioverà allora vorrebbe stare a casa e sa che il fidanzato non sa che pioverà allora Lois che fa dice a Clark Kent che pioverà nell'ipotesi che Clark Kent crede a Lois a questo punto dopo questo atto comunicativo l'insieme dei mondi possibili si modificherà non nelle lezioni di accessibilità ma nei contenuti perché in S0 verrà influenzato solo il mondo S0 a questo punto no chiedo scusa tutto verrà influenzato in S1 il Clark Kent saprà che pioverà in realtà anche in S0 non l'ho rappresentato ma quello che è importante è che a questo punto siccome in S1 sarà vero KR KBLU-R in S0 sarà vero Krosso KBLU-R quindi Lois sa che Clark Kent sa che pioverà a questo punto da in S1 sarà vero questo punto WI perché WI sarà conseguenza logica di KR e di KR implica WI quindi qui questo sarà conseguenza logica quindi sarà vero WI in S1 e quindi se abbiamo un teore completo possiamo provare che sarà vero anche in S0 Krosso WI e quindi a questo punto in S0 Lois sa che Clark Kent vuole uscire bene io in pratica abbiamo visto come la logica modale ci dà supporto per rappresentare gli stati mentali le attitudini mentali complesse conoscenza desideri di agenti intelligenti abbiamo trascurato qui l'implementazione l'accezione deontica e abbiamo soprattutto visto proprio con quest'ultima slide come la rappresentazione di stati mentali che la logica modale ci consente fornisce un supporto causale direi causazionale proprio al compimento di azioni comunicative possiamo dire che la logica modale ci consente di rappresentare gli stati mentali e poter rappresentare potendo rappresentare gli stati mentali possiamo dare un supporto giustificativo corretto del fatto che gli agenti fra di loro parlano cioè io dico una cosa a uno perché voglio indurre l'altro a credo una certa cosa perché sapendo e quindi per far questo devo ipotizzare che l'altro non la sa e so anche che se lui la sapesse allora questo gli genererebbe un desiderio e so che questo desiderio è dell'altro indotto da una comunicazione che io farò è un desiderio che torna utile al mio stesso interesse quindi se volessimo implementare degli agenti selfish per esempio che fanno ragionamenti come noi esseri umani facciamo la logica modale e questo livello di rappresentazione dei stati mentali risulterebbe imprescindibile grazie 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 a tutti.